Sistemati i conti, ora si fa la Lucchese. La nuova dirigenza è pienamente operativa, la conferenza stampa di giovedì pomeriggio tenuta dall'amministratore delegato Lofaso ha detto che si sono poste le basi, le fondamenta per un futuro roseo, diverso da quello sofferto e per ben tre volte fallimentare degli ultimi 15 anni. Una Lucchese solida, in grado di programmare e investire, che non vuol dire però vincere subito. Nei prossimi dieci giorni, forse anche prima, sarà svelato lo staff tecnico, da risolvere i nodi legati a De Homme e Maraia, legati ancora ad un anno di contratto, anche se sono evidenti i segnali che due non faranno più parte del progetto. In pole position, Francesco Ciccio Modesto, ultima stagione sulla panchina dell'Anerossi Vicenza. Decisa anche la sede del ritiro estivo. Sì, ci tenevamo moltissimo a fare ritiro in Toscana, per consentire ai nostri tifosi di poter partecipare e avere visione degli allenamenti della squadra e poi sicuramente faremo anche una presentazione della squadra alla fine del ritiro o comunque nel mese di agosto. L'Ofaso non lo ha detto, ma la Lucchese sarà in ritiro al Ciocco da domenica 16 a mercoledì 26 luglio, dieci giorni per lavorare sodo e preparare la stagione nella quiete e nel verde della bellissima struttura. Questo ci fa pensare che le scelte tecniche siano già state fatte e che si attenda solo il momento giusto per comunicarlo. Lucchese al Ciocco più volte nella sua storia, l'ultima fu gli albori della stagione 2018-2019 con Favarin allenatore, in precedenza rossoneri sul colle di San Quirico, anche nella stagione 2009-2010 per un breve ritiro, prima di un derby col Pisa e nel 2002-2003, primi vagiti del secolo, con Memo D'Arrigo nella veste di tecnico.